Il mondo torna a Dio per Maria, consagrazione totale a Gesù per Maria. Giorno 15, se non si pentono per Irano, Luca capitolo 13 dall'1 al 5. In quello stesso tempo c'erano alcuni presenti che li parlarono dei Galilei, i cui sangue Pilato aveva mescolato al loro sacrificio. Ed egli rispose loro, credete che questi Galilei fossero peccatori peggiori di tutti gli altri Galilei perché hanno sofferto così? Io ti dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali calde la torre di Silom e li uccise, pensate che fossero peggiori offensori di tutti gli altri che abitavano in Jerusalemi? Io ti dico no, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Parola del Signore Il secondo luogo, per esbottarci di noi stessi, dobbiamo morire quotidianamente a noi stessi. Ciò implica la nostra rinuncia a ciò che le forze dell'anima e i sensi del corpo ci spingono a fare. Dobbiamo vedere come se non vedessimo, sentire come se non sentissimo e usare le cose di questo mondo come se non le usassimo. Questo è ciò che San Paolo chiama morire ogni giorno. A meno che il chicco di grano non cada a terra e non muoia, rimane un solo chicco e non porta alcun frutto buono. Se non moriamo a noi stessi e se le nostre più sante devozioni non ci portano a questa morte necessaria e fruttuosa, non porteremo frutti di alcun valore e le nostre devozioni cesseranno di essere proficue. Tutte le nostre buone opere saranno contaminate dall'amor proprio e dall'ostinazione. Così che i nostri più grandi sacrifici e le nostre migliori azioni saranno inaccettabili per Dio, di conseguenza. In un terzo luogo, dobbiamo scegliere tra tutte le devozioni alla Beata Vergine, quella che più sicuramente ci condurrà a questo morire a se stessi. Questa devozione sarà per noi la migliore e la più santificante, perché non dobbiamo credere che tutto ciò che luccica è oro, tutto ciò che è dolce è miele, tutto ciò che è facile da fare viene fatto dalla maggioranza delle persone e il più santificante. Proprio come in natura ci sono segreti che ci permettono di fare certe cose naturali velocemente, facilmente e con poca spesa, così nella vita spirituale ci sono segreti che ci permettono di seguire lavori rapidamente, senza intoppi e con facilità. Tale opere sono per esempio svuotarci per amor proprio, riempirci di Dio e raggiungere la perfezione. La devozione che mi propongo di spiegare è uno di questi segreti di grazia, poiché è sconosciuta la maggior parte dei cristiani. Solo pochi devoti lo conoscono ed è praticato e apprezzato da pochi ancora. Per iniziare la spiegazione di questa devozione, qui c'è una quarta verità che è una conseguenza della terza. Preghiere per pregare dopo le meditazioni nei giorni 13 a 19. Litanie allo Spirito Santo Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Padre onnipotente, abbi pietà di noi. Gesù, Figlio eterno del Padre, Redentore del mondo, abbi pietà di noi. Spirito del Padre e del Figlio, vita illimitata di entrambi, abbi pietà di noi Santissima Trinità, abbi pietà di noi Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, entra nei nostri cuori Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, entra nei nostri cuori Promessa di Dio Padre, abbi pietà di noi Ragio di luce celeste, abbi pietà di noi Autore di ogni vene, abbi pietà di noi Sorgente d'acqua celeste, abbi pietà di noi Fuoco che consuma, abbi pietà di noi Carità ardiente, abbi pietà di noi Unzione spirituale, abbi pietà di noi Spirito d'amore e verità, abbi pietà di noi Spirito di sapienza e intelligenza, abbi pietà di noi Spirito di consiglio e fortezza, abbi pietà di noi Spirito Dio di conoscenza e pietà, abbi pietà di noi Spirito del timore del Signore, abbi pietà di noi Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi Spirito di modestia e innocenza, abbi pietà di noi Spirito Santo consolatore, abbi pietà di noi Spirito Santo santificatore, abbi pietà di noi Spirito Santo che governi la Chiesa, abbi pietà di noi Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi Spirito che riempie l'universo, abbi pietà di noi Spirito dell'adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi Spirito Santo inspiraci all'orrore del peccato, abbi pietà di noi Spirito Santo vieni e rinnova la faccia della terra, abbi pietà di noi Spirito Santo diffonde la luce nelle nostre anime, abbi pietà di noi Spirito Santo incide la tua legge nei nostri cuori, abbi pietà di noi Spirito Santo infiamaci con la fiamma del tuo amore, abbi pietà di noi Spirito Santo apraci i tesori delle tue grazie, abbi pietà di noi Spirito Santo insegnaci a pregare bene, abbi pietà di noi Spirito Santo illuminaci con le tue ispirazioni celesti, abbi pietà di noi Spirito Santo guidaci sulla via della salvezza, abbi pietà di noi Spirito Santo donaci la unica conoscenza necessaria, abbi pietà di noi Spirito Santo inspira in noi la pratica del bene, abbi pietà di noi Spirito Santo consedici i meriti di tutte le virtù, abbi pietà di noi Spirito Santo facci perseverare la giustizia, abbi pietà di noi Spirito Santo sii tu la nostra ricompensa eterna, abbi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, mandaci il tuo Spirito Santo Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riversa nelle nostre anime i doni dello Spirito Santo Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo spirito di sapienza e di pietà Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in loro il fuoco del tuo amore Preghiamo Consedici o Padre misericordioso che il tuo divino istituito Santo ci illumini in fiamma e ci purifiche Che penetri in noi con la sua celeste rugiada e ci renda feconde di opere buone Per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che con te nell'unità dello Spirito vive e regna Nei secoli dei secoli, amén Litanie della Beata Vergine Maria Signore abbia pietà di noi, Signore abbia pietà di noi, Cristo abbia pietà di noi, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici Dio Padre dei Cieli abbia pietà di noi, Dio Figlio redditore del mondo abbia pietà di noi, Dio Spirito Santo abbia pietà di noi, Santissima Trinità Dio unico abbia pietà di noi, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre Purissima prega per noi, Madre Castissima prega per noi, Madre Infiolata prega per noi, Madre Immacolata prega per noi, Madre Amabilissima prega per noi, Madre Ammirabilissima prega per noi, Madre Ammirabilissima prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi, Madre del nostro Salvatore prega per noi, Vergine Prudentissima prega per noi, Vergine Venervissima prega per noi, Vergine Illustre prega per noi, Vergine Potentissima prega per noi, Vergine Misericordiosa prega per noi, Vergine fedelissima prega per noi, specchio di giustizia prega per noi, sede della sapienza prega per noi, causa della nostra gioia prega per noi, vaso spiritual prega per noi, vaso onore prega per noi. Singulare di Devozione prega per noi, Rosa Mistica prega per noi, Torre di Davide prega per noi, Torre d'Avorio prega per noi, Casa d'Oro prega per noi, Arca dell'Aleanza prega per noi, Porta del Cielo prega per noi, Stella del Matino prega per noi, Salute degli Infermi prega per noi, Rifugio dei Pecatori prega per noi, Consolatrice degli Afaglitti prega per noi, Assolatrice dei Cristiani prega per noi, Regina degli Angeli prega per noi, Regina dei Patriarchi prega per noi, Regina dei Profetti prega per noi, Regina degli Apostoli prega per noi, Regina dei Martiri prega per noi, Regina dei Confessori prega per noi, Regina delle vergini prega per noi, Regina di tutti i santi prega per noi, Regina concepita senza peccato originale prega per noi, Regina assunta in cielo prega per noi, Regina del santissimo rosario prega per noi, Regina delle famiglie prega per noi, Regina della pace prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, risparmiaci o Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci benevolo o Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi fietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, perché possiamo essere resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo Ave Maris Stella Salve, luminosa stella dell'oceano, Benedetta Madre di Dio, Vergine sempre senza peccato, porta del riposo celeste. Prendendo quella dolce ave che da Gabriele bene, pace conferma in noi, cambiando il nome di Eva. Rompe i ceppi dei prigionieri, versa luce sulla cecità, spelendo tutti i nostri mali, implorando ogni felicità. Mostrati madre, posa il verbo divino, nato per noi tuo bambino, ascoltare le nostre preghiere attraverso le tue. Vergine tutta scelsa, più miti tra i miti, liberata dalla colpa, preservaci pura e incontaminata. Mantieni la nostra vita tutta immacolata, rendi la nostra via sicura, finché non troviamo in Gesù gioia per sempre. Per l'Altissimo dei Cieli e Agli Omnipotenti, Padre, Figlio e Spirito Santo, una stessa gloria sia. Amin.